Io sono venuto ormai 15 anni fa al Monviso e nel Piemonte. Mi sono innamorato del Monviso e per fare qualcosa in più mi sono innamorato anche di una figlia della grande per cui sono diventato un pochino piammonteno. Io credo che abbiamo fatto una bella famiglia, io ci sto benissimo e mi sento un pochino ancora di più piemontese. Io sono bergamasco, sono orgoglioso di esserlo, ma oggi è arrivata la sorpresa, credo. Tanto che supera l'orda dei giornalisti vi dico qualcosa, perché io quando ritorno ogni anno trovo il Piemonte campiato. Io quest'anno lo trovo un pochino più bene, ve lo dico francamente. Io, proprio a qualche metri di distanza da questa struttura, ho fatto il primo comizio della campagna elettorale per l'elezione della provincia di Giulio e oggi Gianna Gancia è presidente e credo che sia un po' più bella la provincia. Abbiamo fatto le elezioni regionali e oggi abbiamo come governatore Roberto Conte.